Il contratto attuativo per il nuovo servizio rifiuti affidato all'inaus impianti SRR è stato sottoscritto e ci sono tutte le coperture finanziarie necessarie per oltre 2 milioni di euro nell'anno in corso. Però le attività vere e proprie si concretizzeranno non prima del prossimo ottobre. Così con un copione piuttosto prevedibile il sindaco Lucio Greco ha dovuto disporre una nuova proroga a Tecra fino al prossimo settembre quando dovrà materializzarsi il passaggio di consegne tra la società campana e impianti SRR. La nuova proroga è efficacia fino al 30 settembre senza l'avvio del nuovo servizio rifiuti. C'era il bisogno impellente di evitare qualsiasi stop della raccolta che avrebbe potuto generare conseguenze anzitutto di tenuta igienico-ambientale a maggior ragione con l'approssimarsi dell'estate. La comunicazione e l'ordinanza sono state trasmesse a tutti gli enti interessati alla stessa Tecra che ormai da quasi un decennio va avanti a suon di proroghe. Quella appena rilasciata dall'avvocato Greco dovrebbe essere l'ultimo in assoluto. I vertici di impianti SRR sono al lavoro da tempo per completare la dotazione dei mezzi e si procederà con il passaggio dei lavoratori del cantiere locale che entreranno a far parte dell'organigramma dell'inaus. È probabile che prima dell'avvio vero e proprio delle attività previsto ad ottobre impianti SRR con l'avallo della SRR4 effettuerà un periodo di pulizia straordinaria della città richiesto dall'amministrazione comunale. Per i prossimi tre mesi comunque Tecra dovrà coprire il servizio rifiuti che negli anni non ha certo brillato per efficienza ingessato da condizioni contrattuali che non sono mai state aggiornate. E su questo aspetto l'azienda campana è passata alle vie legali chiamando in giudizio proprio l'ente comunale.